Allora, parliamo di un argomento di cui si dibatte praticamente da quando è stato nominato Sari, nuovo allenatore da Juventus, il passaggio da Allegri a Sari. Cosa dovrà da dire Balza, che ha sempre difeso Allegri? Io non rinego niente di quello che dicevo, continuo a pensare che Allegri sia stato un grandissimo allenatore, grandissimo allenatore, ha portato 11 titoli in 5 anni e se porti 11 titoli in 5 anni vuol dire che sei un grandissimo allenatore, poteva portare di più, certo, ha fatto due finali di Champions, ma le finali di Champions sappiamo benissimo come sono andate, sappiamo cosa vuol dire giocare una finale di Champions, sappiamo cosa vuol dire giocare un ottavo, un quarto, una semifinale, legate a tanti fattori e mi sembra che lo stesso concetto sia stato espresso da Sari quest'anno, quindi non è che perché è arrivato Sari c'è un'altra concezione della Champions League, no, la concezione rimane uguale, identica. Allegri ha sempre detto campionato, se poi arriva la Champions League uno di più, Sari cosa ha detto? Campionato, l'obiettivo a lungo termine, perché è su quello che si giudica l'andamento di una stagione, ok? La Champions vediamo di alleggerirla, di carico, togliere pressione, quello che diceva anche Allegri sostanzialmente, togliere pressione, alleggerirla, sono altre le favorite, ci sono tante pretendenti a livello della Juventus, le stesse parole del passato, non è cambiato praticamente nulla, che non vuol dire mi tiro indietro, non voglio vincere, non ci provo nemmeno, attenzione, è ben diverso, ma sono due modi diversi di esprimere lo stesso concetto, ossia Juve, campionato, Champions, legato a tanti fattori, proviamoci lo stesso, ma non è un dramma, ok? Togliere la parola ossessione, in questo identici, poi nel modo di giocare chiaramente molto diversi. Però attenzione, c'è sempre il discorso del risultato. Allegri sarà sempre ricordato perché ha vinto 11 titoli in 5 anni, Sarri ha appena cominciato, ma non verrà ricordato se avrà fatto solo vedere bel calcio, verrà ricordato in due circostanze, non sappiamo ancora quanto durerà il suo ciclo, però in due circostanze, una positiva o una negativa, verrà ricordato per quello che ha vinto, significato positivo, verrà ricordato se non ha vinto, specialmente dopo gli 11 titoli di Allegri in 5 anni, preceduti dai trascudenti di Conte del 2 Supercoppa italiane. Quindi attenzione a non fraintendere quello che vado dicendo. Detto questo, la Juve mi sta divertendo moltissimo, mi sta divertendo moltissimo, mi rendo conto che è stata una svolta epocale, mi sta sorprendendo la velocità con cui i giocatori della Juventus stanno assimilando i concetti di Sarri. Mi viene in mente quello che avevo detto io quest'estate, quello che ha detto Chiellini dopo Parma, dicembre o anno nuovo per vedere completamente la mano di Sarri. Beh, se la Juventus va avanti così, anticipa questi tempi, anticipa questi tempi. La Juventus vista San Siro ha lasciato un'immagine pazzesca. Al di là dei 24 tocchi che hanno preceduto il gol di Higuain, l'immagine che ha dato è quella di una squadra che gioca o che sa giocare a memoria. Sa già giocare a memoria, con concetti applicati al gruppo, al collettivo. Io mi sono rivisto l'azione del gol di Higuain dall'alto grazie a un bravissimo youtuber che si chiama Pagno72 che riprende tutte le partite della Juventus e poi mette in rete i gol. Certo che c'è una bella costanza, sta lì e riprende tutta la partita. Vi invito a andarlo a vedere sul suo canale Pagno72. C'è il gol di Higuain preso dalla curva, dal terzo anello, ok? Si vede un po' da lontano, ma voi vedete una squadra che in occasione di quel gol, dei 24 tocchi precedenti, si muove continuamente. Non c'è mai un giocatore fermo mentre uno ha la palla. Non ce n'è mai uno. Gioca un po' al gatto col topo. Movimenti sincronizzati fino a quando, dopo una ragnazione di passaggi, si trova l'imbucata per far passare il primo pallone e si accelera sull'inserimento di Higuain. È vero che ci sono dentro dei concetti di base del calcio che insegnava anche Allegri, ci mancherebbe altro, ma qua si vede il movimento corale. Nessuno sta a guardare l'azione. Nessuno. nessuno sta a guardare l'azione. Tutti si muovono sincronizzati. Questo vuol dire bravo Sarri e diciamo anche un po' fortunato Sarri perché ha a disposizione dei giocatori molto intelligenti che si sanno applicare e che sanno da subito o quasi mettere in pratica determinati concetti o comunque in meno tempo di quanto si potesse immaginare. C'è una combinazione in questo momento, in questo momento, alla settima giornata, che mi fa dire che la Juventus è ancora più forte di tutte. È ancora la candidata numero uno. Grazie Balsa, lo dicevano anche quest'estate. Sì però si diceva beh ci può anche stare un anno di transizione. No ragazzi, se la Juventus va avanti così e se è vero che ha dei margini di crescita, beh la Juventus si avvia a vincere il nono scudetto consecutivo. Toccatevi quello che volete. Padronissimi di farlo. Io sto parlando dell'impressione che sto ricavando attualmente. Però, però, dico, mi piacerebbe vedere la stessa rabbia, la stessa intensità, la stessa autorevolezza, la stessa applicazione, per esempio contro il Bologna, tra 15 giorni, quando riprende il campionato. Cioè mi piacerebbe vedere una squadra che si comporta allo stesso modo mentalmente e di conseguenza tecnicamente anche quando l'avversario sulla carta non è l'Inter, non è il Napoli. E invece questo non è ancora successo perché lì ritorna il discorso del DNA vincente che ti fa dire beh tanto la vinco lo stesso. Il partitone lo faccio quando lo squadrone, la partita normale o almeno addirittura del normale la faccio contro le altre perché tanto la vinco lo stesso. E se mai ne pareggio una va bene lo stesso. No, io vedrò l'evoluzione totale di mentalità e di applicazione tattica delle Juventus quando la vedrò fare come fa il Manchester City, che certe partite la vinte 4-0, 5-0 addirittura 8-0. No, questo non lo so, non penso nemmeno che sia possibile nel calcio italiano. Ma quando vedrò una Juventus che crea 20-21-22 palle gol, ma ne butta dentro almeno 4 contro squadre ovviamente di livello inferiore rispetto all'Inter, al Napoli, alla stessa Roma, insomma. Ok? Poi ci può anche essere la giornata storta perché tutte sanno giocare a calcio, adesso tutte sanno giocare a calcio e tutte sono in grado di metterti in difficoltà se tu, che sei superiore, abbassi la soglia dell'attenzione. Se tu abbassi la soglia dell'attenzione. Non ho citato l'Atalanta tra le grandi, ma l'Atalanta è tra le grandi. Ok? E richiederà da parte della Juve una partita come quella giocata contro l'Inter. Lì sarà completato il percorso o comunque sarà avviata al completamento del percorso, perché chissà mai quando sarà completamente terminato questo processo. Dal punto di vista tecnico, tattico, una Juve che sta anticipando i tempi, dal punto di vista mentale mi piacerebbe, mi piacerebbe vedere una Juve che si comportasse come il Barcellona, come la Sottemporale Madrid, come il Bayern di Monaco, come il Manchester City. È vero che il Manchester City ha perso col volo del Remington 2-0 in casa, ma ci stanno queste giornate storte. Attenzione, non è scritto da nessuna parte che le vinci tutte, ci stanno, però ha vinto anche 8-0 una partita, vince 4-0, 5-0, serve alla classifica marcatori, contro alla differenza reti, tutto quello che volete. Ma è un discorso di mentalità, di mentalità. Che Sari ha il compito, ma lo sa bene, lo sa bene, lo sa bene anche lui perché è una persona intelligente, che Sari ha il compito di portare avanti, accanto all'evoluzione tecnica e tattica, questo discorso di cambio di mentalità che ti fa trattare praticamente tutti gli avversari allo stesso modo. Praticamente vuol dire non assolutamente, perché assolutamente è impossibile, perché puoi incappare in giornate storbe, in giornate meno storbe, in giornate dritte, in giornate meno dritte, ok? Però, insomma, che ci sia quantomeno questo tipo di volontà manifesta nella Juventus. Detto questo, ribadisco, non rinnego quello che dicevo di Allegri, sono molto divertito nel vedere la Juventus di Sari. Appaga la vista, trascina l'applauso, immagino la gente che la pensi così. È un bel vedere, però mi piacerebbe vederla sempre così, o che ci provasse ad essere sempre e costantemente così. Ma io sono fiducioso nel poter vedere questo tipo di Juventus. Grazie perché mi seguite, volevo ringraziare anche i tanti tifosi dell'Inter che hanno dovuto farsi il selfie con sottoscritto prima della partita, era già successo in passato, ma mai tanti come quest'anno e questo è lo spirito che mi piace. Ma si va a vedere una partita di calcio e tutto poi deve finire lì. Iscrivetevi al canale e questa settimana e la prossima ci saranno sentenze di campo. Vabbè, comunque ricordiamolo sempre che il campo è il luogo delle uniche vere sentenze. Ciao, alla prossima!